Anni basta, mamma mia, pronti a partire? All'esterno, Inexplicable, cavalli che hanno affrontato 400 metri di gara, adesso è Tesaurus, ancora Tesaurus che ha preso l'iniziativa con il cap giallo, al suo interno si trascina My Sister Jenny, ancora più all'esterno Black Nobel, quarta all'interno invece Paranormal Beauty, cuore rosso che segue la scia di Black Nobel, poi Inexplicable Gorlitz all'interno, che sfrutta corsia interna e con, alle sue spalle, Dunawake, cavalli che adesso vanno ad affrontare la dirittura di arrivo, è in vantaggio, il leggero vantaggio Tesaurus che a questo punto deve parare l'affondo esterno di Black Nobel, ancora più all'esterno quello di cuore rosso, poi all'interno Calama e Sister Jenny mentre si propone Gorlitz, molto pericoloso, ancora Paranormal Beauty, molto molto vitale, in corsa in certa dall'esterno, prova a ripartire, Inexplicable, che adesso è passata in vantaggio nei confronti di Paranormal Beauty, poi Black Nobel e Gorlitz, è passata in vantaggio Inexplicable nei confronti di Paranormal Beauty e va a vincere Inexplicable nei confronti di Paranormal Beauty, c'è lotta per il terzo, Dunawake all'interno, all'esterno, cuore rosso. Occhio che c'è anche Black Nobel all'interno di cuore rosso, però dovrebbe essere cuore rosso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.